Gigi D'Alessio aspetta un altro figlio, il quinto, dalla sua nuova compagna di 26 anni più giovane di lui. Denise Esposito, 28 anni, studentessa universitaria, è incinta, e chi a svelare lo scoop. Gigi D'Alessio, sposato con Carmela Barbato dal 1986 fino al 2006, dalla prima moglie ha avuto tre figli, Claudio, Ilaria e Luca. Andrea, venuto al mondo nel 2010, è nato dalla relazione con Anna Tatangelo. Iniziata nel 2005 e finita definitivamente nel 2017. Ora l'artista 54enne, nonno di due nipoti. Le figlie del primogenito Noemi e Sofia, nate rispettivamente nel 2007 e nel 2020, sarà nuovamente padre. D'Alessio è stato paparazzato dal settimanale mentre a largo, a bordo di uno yacht, accarezza dolcemente il ventre della fidanzata. Il bebè dovrebbe nascere il prossimo autunno. Ormai la storia con Anna Tatangelo e definitivamente alle spalle. La bella cantante di Sora sembrerebbe legata al rapper Livio Cori, con cui è stata sorpresa in spiaggia tra coccole e baci. Gigi, invece, pare aver ritrovato il sorriso con Denise. Sua grande fan. Sembra che i due si siano conosciuti qualche mese fa durante un suo concerto a Capri, dal quel momento non si sono più lasciati. Ciao! 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 Ciao!